amici ben trovati in questo video vi sfido a trovare un competitor che sia in grado di competere appunto con il colbor cl100 mi è stato mandato proprio dalla colbor per provarlo e ho voluto condividere con voi le impressioni a mezzo di questo video e vi vado a raccontare un po' quelle che sono le particolarità di questo led che si distinguono da tutte quelle che almeno per il momento sono le caratteristiche di led similari parliamo di un led torcia da 100 watt che pesa solo un chilo e che può essere tra le altre cose alimentato come sto facendo in questo momento a mezzo di batterie v-lock e quindi può essere utilizzato fino a 100 watt con tanto di attacco bowens standard in tutti i contesti anche fuori dallo studio in più il cl100 si contraddistingue da tanti altri competitor oltre che per il fatto che il led è dual color e quindi avere luce fredda e luce calda si contraddistingue però anche per una cosa nello specifico costa 110 euro prezzo ad oggi in questo momento in cui vi sto parlando un led 100 watt con attacco bowens dual color v-mount possibilità di alimentazione v-mount molto leggero e con tutte le funzionalità che andremo a vedere tra poco a 110 euro circa detto questo andiamo a vederlo più da vicino intanto una delle primissime cose da non sottovalutare che il colbor 100 viene fornito all'interno della sua custodia ben rigida ben rifinita e assolutamente idonea per il trasporto tra le altre cose con una cinta che può essere agganciata qui sui laterali e quindi facilissimo da trasportare e ben custodito cosa ripeto da non sottovalutare perché alcuni competitor non danno appunto la custodia quando si scende sotto una certa cifra e dobbiamo sapere che le custodie costano tanti soldi e quindi avere la custodia già a disposizione è un fatto positivo all'interno della custodia abbiamo la campana che potete vedere con l'attacco bowens standard altra cosa molto importante a 100 watt abbiamo già l'attacco standard normale e quindi possiamo poi fare un innesto sul sulla campana a posto della campana con eventualmente accessori quali softbox lenti di fresnel e così via insomma tutti accessori che basta comprare e oppure avere e si possono innestare su questo tipo di led senza dover ricomprare adattatori e cose varie andiamo ad innestare la campana eccola qui e come potete vedere il fascio di luce in questo momento chiaramente va a essere indirizzato in una zona nello specifico chiaramente questo è un accessorio basilare che dobbiamo assolutamente avere e che ci dà la possibilità nello specifico di puntare la luce verso un soffitto quindi avere praticamente la possibilità di diffondere la luce a mezzo di riflessione della stessa come in questo momento sto facendo chiaramente adesso aumento in maniera importante e quindi vado a sovresporre l'immagine però ecco questo è l'utilizzo che se ne può fare di una campana detto questo andiamo a vederlo più da vicino vediamo le sue funzionalità e come lavorare con lo stesso bene abbiamo detto un chilo di peso e questo è garantito reso possibile grazie al fatto che tutta la scocca è in plastica e se vogliamo denotare questo come uno svantaggio costruttivo comunque di minor pregio dall'altra almeno ci regala il concetto del peso inferiore e questo vi posso garantire soprattutto se si pensa di utilizzare questo strumento in un contesto a batterie quindi in cui un operatore magari ti dà la possibilità di avere la luce portatile ecco chiaramente è un vantaggio il peso è molto molto leggero tra le altre cose può essere agganciato e senza gravare su eventuali strutture ed ecco il sistema come può essere trasportato facilmente vedete che sulla mia mano destra ho a disposizione un innesto che può essere tra le altre cose agganciato con questa morsetto con questo morsetto può essere agganciato sul mio stativo o comunque può essere trasportato a mano e sull'altra mano ho a disposizione la possibilità di indirizzare il led verso le mie riprese la torcia è dotata di questa maniglia che può essere svitata e consente la rotazione in questa modalità molto semplice qui sul laterale abbiamo la possibilità di sganciare e inserire uno spadino per poter inserire magari una bandiera di diffusione e qui abbiamo l'attacco per lo stativo che basterà inserire e avvitare andiamo a vedere lo strumento più da vicino in termini tecnici in termini come primo pulsante abbiamo il tasto d'accensione basta schiacciarlo e il pannello si accende a questo punto basterà ruotare la ruota che abbiamo qui il pomello che abbiamo qui per incrementare o decrementare la quantità di luce che desideriamo a destra del tasto di accensione abbiamo il pulsante mode il pulsante mode si suddivide in due funzioni nello specifico la prima funzionalità ci permette di selezionare la modalità di effettistica e di modalità di lavoro in cui vogliamo far lavorare appunto il nostro pannello e qui ad esempio è entrata in funzione la modalità candela e quindi il nostro led è in grado anche di fare effettistica di gestire e creare effettistica ogni volta che premiamo questo pulsante andiamo a cambiare il tipo di effetto ad esempio in questo momento abbiamo effetto flash ce ne sono diversi tuono e così via ok è possibile per ogni effetto andare a personalizzare i parametri ad esempio in questo caso per l'effetto candela posso decidere la colorazione del mio effetto candela quindi la temperatura colore o eventualmente la velocità con cui voglio che questo avvenga siamo tornati in maniera cct quindi in modalità standard e vi faccio vedere che se tengo premuto questo tasto vado in modalità turbo questo permette al nostro led di generare una quantità di luce pari a 120 watt piuttosto che 100 questa modalità oltre a inserire la ventola che è appena entrata in funzione permette un'operatività di non più di 60 secondi al massimo appunto dell'energia proprio perché è un'eccezione e serve in caso abbiate la necessità di fare uno scatto ad esempio fotografico oppure volete per un piccolo lasso di tempo una forte luminosità e quindi incrementare ulteriormente quella che è la possibilità schiacciandolo nuovamente ritorniamo nella modalità classica normale e proseguiamo con le nostre funzionalità sul tasto centrale sulla ghiera qui che abbiamo a disposizione chiaramente ruotando abbiamo a disposizione l'intensità luminosa ma schiacciando il pomello centrale abbiamo anche la possibilità di variare la temperatura e a tal proposito non vi ho detto che la temperatura di questo led va dai 2700 gradi kelvin come state vedendo fino a un massimo di 6500 gradi kelvin anche questa una caratteristica se vogliamo molto importante se teniamo in considerazione i competitor di questo led al lato destro del pomello centrale abbiamo il tasto gruppo questo tasto permette la creazione di gruppi di led di uguale maniera e la gestione degli stessi all'interno dell'app che viene fornita sull'apple store o su sistemi android con la quale si può gestire ogni funzionalità e non solo si possono fare dei gruppi da remoto collegandosi a mezzo di bluetooth ai dispositivi e quindi avendo a disposizione direttamente la gestione completa e remota attraverso app non solo tutto il led è possibile manovrarlo a mezzo del telecomando che anch'esso viene fornito in dotazione e che permette di fare qualsiasi tipo di lavorazione così come stiamo facendo sul pannello posteriore a mezzo appunto di telecomando remoto nello specifico sul telecomando abbiamo due impostazioni di temperatura colore già prefissati al massimo e al minimo la possibilità di gestire la modalità di lavorazione tra cct effetti eccetera e qui sulla ghiera principale abbiamo la possibilità di gestire temperatura colore nonché luminosità e accensione o spegnimento della luce stessa mentre invece qui sulla parte superiore abbiamo il tasto dei 60 secondi che permette al led di lavorare per 60 secondi a 120 watt quindi incrementando in un 20 per cento la sua potenza e per ultimo il tasto di accensione o spegnimento del dispositivo ultimo pulsante denominato fan questo tasto se schiacciato permette di lavorare con l'azione della ventola o meno cosa interessante che appena lo schiacciamo il led non va a utilizzare la fan quindi la sua ventola perché in questo momento sta utilizzando un'energia necessaria che non necessita del raffreddamento del sistema e quindi tutto il led comunque malgrado gli è stata data la possibilità di lavorare con la fan e quindi con la ventola accesa non la utilizza infatti all'interno del led c'è un sistema intelligente che da solo capisce se utilizzarla o meno nel caso aumentassimo l'intensità luminosa e dopo poco sentiremo che la ventola entra in funzione chiaramente possiamo schiacciare di nuovo il tasto fan e andare a diminuire appunto l'intensità luminosa e quindi anche la possibilità di avere il rumore della ventola che nel caso di massima intensità raggiunge 25 db ovvero la quantità di una sorta di bisbiglio della voce umana se invece vado a schiacciare il tasto fan per diminuirla e si decrementa l'intensità luminosa fin a 80 watt piuttosto che 100 l'intensità rumorosa della ventola nel caso dovesse entrare in funzione sarà paregonabile a quello del respiro umano quindi questo led risulta essere veramente ultra silenzioso infatti in questo momento la ventola sta lavorando ma io a malapena riesco a sentirla col mio orecchio abbiamo visto gran parte delle funzionalità del nostro pannello di controllo ho dimenticato di dirvi che chiaramente tutto il sistema può essere alimentato a mezzo del proprio alimentatore collegabile sulla rete elettrica e con lo stesso adettatore che può essere inserito qui ci tengo a sottolineare che la piastra per l'alimentazione attraverso V-Lock non è compresa nel pacchetto base ma va acquistata separatamente ho appena installato un diffusore come potete vedere della Godox ma qualsiasi marca va bene perché l'attacco è standard un diffusore da 60 di diametro con griglia nido d'ape vediamo l'effetto che restituisce il led torcia ed ecco il risultato del mio led torcia messo qui sulla mia destra se vogliamo anche troppo vicino e tra le altre cose in singola unità quindi chiaramente non è questo il modo di illuminare un soggetto o il tutto a circa un metro di distanza quindi in sostanza un po' troppo ristretto gli spazi ma comunque per darvi un'idea di come il sistema lavori prima di lasciarvi vi ricordo che rimango a vostra disposizione laddove avessi dimenticato delle informazioni e una per esempio che ho dimenticato è che il il led lavora con un CRI del 97 per cento ad esempio dimenticato questa informazione è molto importante ma in tutti i casi rimango a vostra disposizione e tra le altre cose vi lascio il link in descrizione per un eventuale acquisto anche eventualmente su Amazon un prezzo così per tutto quello che ci dà questo led della Golbor penso che difficilmente lo troviate in altri brand vi lascio tutto spero di avervi aiutato nella scelta dell'illuminazione per il vostro setup ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video ciao